Siamo un'azienda che opera sul mercato da oltre 20 anni. Su uno spazio espositivo dedicato di oltre 5.000 metri quadri, si sviluppa il nostro centro integrato per l'edilizia, piacevole sintesi di diversi settori merceologici. Pavimentazioni e ceramiche, arredo bagno e sanitari, wellness, parquet, porte interne e blindate, infissi in legno, in alluminio legno, in alluminio e in pvc, cucine componibili, arredamento e complementi. I nostri showroom consentono di scegliere, vedere e toccare una selezionata collezione di materiali. Siamo un'azienda consapevole del ruolo rivestito sul territorio e verso il cliente. Attraverso la specializzazione dei nostri consulenti, la ricerca e la sperimentazione di nuovi materiali, sviluppiamo i progetti dei tecnici e dei clienti. I nostri showroom diventano un luogo d'incontro tra idee e materiali, uno spazio in cui le aspettative trovano puntuale soluzione senza inutili snaturamenti. Abbiamo voluto che il nostro claim sintetizzasse tutto questo. I tuoi desideri, le nostre idee. Rappresentiamo una realtà unica per mix di prodotti e per superficie espositive. Ci proponiamo per capacità di sintesi di gusti, di tendenze e di attese nell'incontro tra clienti, progettisti designer e mercato. Pavimentazioni e ceramiche. Un'ampia zona espositiva è dedicata alla presentazione dei grass, dei cotti, delle monocotture, dei marmi, delle miscele e dei ricomposti. Arredo bagno Il bagno, ormai uno dei luoghi più interessati all'espansione dell'immaginario domestico e all'espressione del proprio lifestyle, trova spazi inaspettati per fantasia, humor ed emozioni. Serramenti Oltre mille metri quadri sono dedicati a porte interne, blindati, infissi in legno, in legno alluminio, in alluminio e PVC, a buesari, armadi e a muro, con una felice sintesi tra manualità artigianale, design e processi industriali certificati di aziende come la Punto Porte. Cucine La partnership con le cucine Acheo propone un progetto di casa creato per il living e dedicato al comfort quotidiano, combinato a design e tecnologia. Arredamento e complementi Abbiamo pensato ad una casa completa, materiali sperimentali, forme originali, design e tecnologia. I nostri partner sono Gervasoni, Flu, MDF, Lema, Emu, Ingo Maurer, Cartel, Barovie e Toso. Energia, originalità, professionalità e ricerca hanno strutturato nel tempo nella nostra azienda un insieme di valori riconoscibili, sia dal cliente che dai progettisti. Un mix di stimoli che può definirsi come etica qualitativa. Abbiamo sviluppato la capacità di rispondere alle esigenze contemporanee del vivere la casa, abbiamo colto il cambiamento dello stile di vita e continuiamo ad alimentare i vostri desideri con qualcosa di unico, le nostre idee.